ecco il grande mario l'autore di tante imprese che si allena sulla collina di rivalta ci dica ci dica come si sente cammini cammini vada vada ci dica ci dica qualche cosa ci dica qualcosa ci dica qualcosa e oggi mi va male perché sono con una banda di pellegrini che non vanno avanti giovani ma stanchi lei ci dà il consenso di metterlo su youtube questo questo video si 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 siete autorizzati grazie grazie prego prego dove stai andando di bello nel posto più meraviglioso del mondo in culo ai lupi ora non lo metto eccolo eccolo grande insuperabile metti tutti dai guarda che giornata meravigliosa un sogno la meraviglia del creato il primo bronzo di riace il miracolo vivente l'uomo che non deve chiedere mai tanto nessuno gli dà niente bene bene chiudiamo qui l'intervista ci saluti saluti e baci saluti e baci cammina e taci ciao